Aperto il centro operativo comunale, il COC, mentre per la giornata di lunedì 25 febbraio è stata disposta la sospensione dell'attività didattica in tutte le scuole di ogni ordine e grado rigadenti nel territorio comunale di Sulmona. L'ho deciso il sindaco di Sulmona, Anna Maria Casini, che fra una consultazione e l'altra a Palazzo San Francesco ha dovuto gestire la fase di maltempo che non ha risparmiato danni in città. Il provvedimento per l'apertura del COC è stato già firmato, mentre quello per le scuole arriverà nelle prossime ore a margine di una riunione operativa. Tra l'altro ci segnalano già diversi danni, per cui oltre a una ricognizione si dovranno fare delle attività proprio di manutenzione. E quando ha retto il sindaco Casini a Onda Tg, a margine della cerimonia di accoglienza dei 170 passeggeri del treno storico Sulmona-Carpinone. Per quanto riguarda il COC sarà firmata l'ordinanza di apertura presso la sala operativa della protezione civile di Sulmona, nella zona industriale località Valletta, con il combino di supportare il sindaco nella gestione delle attività emergenziali. Le funzioni attivate sono le seguenti, funzione numero 3 di volontariato, numero 4 materiali e mezzi, numero 7 strutture operative, numero 9 assistenza alla popolazione e attività scolastica, numero 10 funzione amministrativa, segreteria di coordinamento. Ho aperto il COC, anche se in realtà le funzioni sono attive già da questa mattina. Sia la polizia locale, la protezione civile, siamo in collegamento e in coordinamento con i vigili del fuoco che stanno battendo sin dalle prime ore tutte le zone di Sulmona dove si sono riscontrati diversi danni, cadute di alberi, tegole. Abbiamo cercato di intervenire soprattutto nelle scuole dove ci sono stati pure lì diversi problemi. Contiamo nel pomeriggio di fare il punto e sicuramente prevediamo la chiusura delle scuole per lunedì per poter ripristinare la situazione.